Allora questa è una pianta di genziana dal fiore blu. Allora noi se la lavoriamo la raccogliamo con un po di accortezza noi vediamo che ci sono tante radici. Quindi tra due o tre anni ogni radice che si è rotta cresce una pianta nuova, contrariamente a quello che si può pensare che praticamente è come la lavaggio quella che chiamiamo noi in dialetto che ha tante radici profonde, quando si strappano si rompono le radici e ogni radice cresce una pianta e questa più o meno è dello stesso sistema. Perciò io qua l'ho sempre coltivata l'ho sempre raccolta perché ce n'erano poche piante nel giro di 10 12 anni si vede qua quanto quanto ce n'è perché bisogna curarla bisogna rispettarla la zona dove cresce e metterla a posto come si è trovato. Allora abbiamo il risultato che si può vedere insomma poche parole via. Grazie. 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 Grazie.